Un surriscaldamento della canna fumaria di uno stabile in via Coroneo al Civico 19 ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco alle 22.30 ieri sera. A produrre il fumo che ha generato l'allarme sono state le scorie all'interno della canna fumaria che si sono scaldate durante l'arco della giornata. Di notte i pompieri giunti con l'autoscala, l'autobot e il funzionario di guardia hanno provveduto al raffreddamento del camino e alla messa in sicurezza dello stabile. Il palazzo ospita al piano terra anche la pizzeria Casa Pepe dove i dipendenti ieri sera stavano svolgendo il regolare servizio ospitando i clienti. Se non che giunti i pompieri per i fumi provenienti dal tetto dell'edificio il lavoro si è fermato e le persone sono state fatte evacuare dalla pizzeria. Il locale ha potuto riaprire solo stamattina. Non si registrano danni a cose o persone ma i pompieri sono rimasti impegnati stamane in via Coroneo per sincerarsi che i fumi non avessero invaso gli uffici del palazzo e altri edifici vicini.